Wendagoria è diventata mamma per la prima volta. Il parto emotivo con Maria Teresa Ruta e tutta la famiglia riunita. Wendagoria e Mirko Gancitano hanno accolto con gioia la nascita del loro primo figlio, Noah. Dopo essersi sposati a maggio, la coppia è pronta ad iniziare una nuova avventura familiare. Wendag ha condiviso l'emozionante notizia su Instagram, dicendo Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti Noah, Mirko ha aggiunto. Oggi la vita ci ha regalato un sole che non tramonterà mai. Wendag aveva rivelato la sua gravidanza in televisione a gennaio, insieme al marito. La strada verso la maternità non è stata facile per lei. Nel 2022, Wendag ha dovuto affrontare un intervento chirurgico per la rimozione di una tuba a causa di una gravidanza extrauterina. La ricerca straziante di un figlio ha reso la notizia della sua maternità una gioia immensa per la sua famiglia e per la comunità di fan che si è riuscita a creare condividendo le sue difficoltà sui social. Wendagoria è nota anche per la sua partecipazione al Grande Fratello, dove ha mostrato la sua forza e determinazione nonostante le avversità. Wendagoria e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, dalla tensione alla riconciliazione. Wendagoria e sua madre, Maria Teresa Ruta, hanno partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda tra il 2020 e il 2021. Questa edizione è stata particolarmente seguita, e ha visto molti momenti emozionanti e controversi, tra cui il memorabile siparietto tra Wendagoria e sua madre. Maria Teresa Ruta, anche lei concorrente del reality, ha avuto un acceso confronto con Wendag, rivelando le tensioni e le incomprensioni accumulate nel loro rapporto. In una scena particolarmente commovente, Wendag ha espresso il suo desiderio di essere vista e riconosciuta come individuo, non solo come la figlia di Maria Teresa. Ha parlato delle difficoltà di crescere con una madre famosa, e di come spesso si sia sentita trascurata o in ombra. Maria Teresa, visibilmente emozionata, ha ascoltato attentamente le parole di Wendag, rispondendo con affetto e riconoscendo i suoi errori. Ha cercato di spiegare le sue azioni e ha sottolineato quanto sia fiera della figlia, nonostante le difficoltà. Il confronto si è concluso con un abbraccio sincero, simbolo di una riconciliazione e di un nuovo inizio per il loro rapporto che continua fino ad oggi. Il video del parto con Maria Teresa Ruta e famiglia al completo Wendagoria ha condiviso un video emozionante del parto, in cui si può vedere tutta la famiglia al completo, inclusa Maria Teresa Ruta. Il video, che ha commosso molti fan, mostra la gioia e l'emozione del momento, sottolineando il forte legame familiare. Maria Teresa assieme all'ex marito Amedeo Goria, visibilmente commossa, è accanto a Gwenda e Mirko Gancitano, celebrando insieme l'arrivo del piccolo Noah. Questo momento speciale cattura l'unione e l'affetto che contraddistinguono la famiglia, mostrando una Maria Teresa Ruta felice e orgogliosa nel nuovo ruolo di nonna.